Mi è piaciuto anche inserire la parte relativa alla conduzione, perché in realtà è una professione davvero importante quanto non si dà poi il giusto peso, lo si vede anche un po' dai pochi conduttori che ci sono, che sono sempre quelli, ci sarà anche un perché, anche perché è un mestiere che può coinvolgere veramente tutti. In che senso? Nello specifico la presentazione televisiva, come dicevamo anche oggi, nell'ambito della produzione televisiva, cinematografica, si creano delle differenziazioni, ricordando sempre che ogni mezzo ha un suo pubblico, ha dei suoi tempi, eccetera, eccetera. Però in realtà riuscire a creare un modo per esprimere la propria personalità, il proprio modo di comunicare, il saper gestire tempi e ritmi, in realtà noi lo facciamo tutti i giorni. Quindi il poter parlare, dialogare con delle persone, con un pubblico, quindi una o più persone, sicuramente è qualcosa che ci interessa a tutti, a prescindere che poi diventi una professione, piuttosto che no. Questo è in dubbio, esattamente. Nelle tante figure che abbiamo visto, effettivamente il ruolo dello speaker, chiamiamolo così, ne abbiamo una qui in sala, una ragazza che lei appunto fa di professione anche alla speaker, se vuoi anche intervenire non ti vergognare perché insomma già lo fai, può trovare davvero tanti sbocchi anche qui, anche se effettivamente gli spazi, se vogliamo parlare di un discorso di successo, quindi fare successo attraverso la professione del conduttore è abbastanza lunga, difficile e riservata anche un po' ai pochi. Se pensiamo ok, quanti presentatori televisivi ci sono in Italia? Amadeus addirittura. Ci mettiamo un Carlo Conti? Per la RAI, le fazioni. Assolutamente. Poi riesumiamo ancora in vita Pippo Baudo. Il mitico Pippo Baudo. Se vogliamo parlare degli uomini, ecco, se vogliamo parlare a delle donne, effettivamente, dalla Clerici, possiamo andare di qualità e da capire. Però una cosa che possiamo notare, indubbiamente, è che se ci facciamo caso, ogni format, ogni programma, riagganciandomi anche al discorso di questa mattina sulla realizzazione di format, quando si va a realizzare una scaletta di produzione, una ideazione di format, uno sviluppo del progetto di realizzazione format televisivo, si deve anche pensare al conduttore. Cioè, chi sarà a condurre? Perché questo? Perché in realtà, cosa che si dimentica spesso quando si inizia a fare questo tipo di mestiere, si pensa che basti saper parlare. Stop. No, non è così. Bisogna, in primis, mettersi in gioco. Sicuramente, mettersi in gioco si intende anche capire un po' la propria personalità e condividerla con gli altri. Ecco perché quando si pensa ad un format, quindi alla scrittura di un format, è importante anche già iniziare ad individuare chi sarà il presentatore di questo format. Perché ogni conduttore ha una propria personalità, ha un proprio modo di comunicare, ha un proprio modo di interagire con gli ospiti. Indubbiamente ci sono delle regole che anche qui devono essere per forza seguite, così come nel caso di un discorso di programma televisivo. Bisogna entrare nell'ottica, come anche nel montaggio, che sicuramente voi che avete seguito anche Stefano potete riagganciare un po' tutti i pezzi del college di questo open day. Indubbiamente il tempo percepito per chi conduce, il tempo percepito per chi ascolta, è diverso dal tempo reale. Così come in uno spot, quando si vedono, no? Io devo tornare a casa. Mica ti fai due minuti di auto, cinque minuti di auto, no? In dieci secondi fai vedere l'uscita dal negozio, sali in macchina, parcheggi e sei a casa. Quindi sono cose scontate che mai nessuno ci pensa, ma i tempi sono fondamentali. Vengono percepiti spazio-tempo in maniera differente. Questo lo dico perché nel mio trascorso ho presentato diversi programmi in ambito regionale, televisivi, in ambito anche fuori, diciamo, Abruzzo per quanto riguarda gli eventi live e mi piace condividere un po' anche queste mie esperienze. È indubbio che il contesto di condurre un evento in programma tv presuppone di essere in uno spazio, studio televisivo o spazio ambiente. Si presuppone che ci sia già una preparazione prima di quelli che devono essere gli interventi, quindi la famosa scaletta e bisogna ovviamente fare, io qui nel titolo ho messo il ruolo del presentatore tv, tra coordinazione e personalità. Queste due parole spesso non le ho mai viste insieme per chi vuole condividere questa professione. Si pensa sempre, bisogna studiare edizione? Vabbè, è indubbio, si deve studiare edizione, bisogna saper parlare bene. Bisogna avere una buona parlantina? Non è detto, io non sono d'accordo sempre. Ahimè in questo momento devo riempire del tempo, per cui non posso, non c'è musica, non ci sono intermezzi, se non parlo qui ci addormentiamo un po' tutti. Ma ahimè se parlo anche troppo, è sempre lo stesso ritmo, vi annoierò allo stesso. Perché ho usato queste due parole? Perché a mio giudizio, un po' come dire esprimere il mio parere, sono le due parole chiave che possono creare un conduttore televisivo. Il saper coordinare, perché in realtà il presentatore non è quello che dice ok adesso c'è, l'ho fatto prima per presentare loro, ma non è solo quello, è anche saper coordinare, perché ad esempio in un programma si può anche fare un talk show e fondamentalmente nella realizzazione di un talk show ad esempio, non si invitano mai ospiti che vanno d'accordo, anzi si invitano ospiti che possono creare quindi la discussione, il dibattito, altrimenti come fa un programma ad andare avanti. E quindi lì si crea l'attenzione del pubblico nel capire ma dove vorranno andare a finire. Io sono più per lui, ma io sono più d'accordo per l'altro e intanto passano le prime ore e mezza davanti alla televisione la domenica pomeriggio, anziché magari andare a fare una passeggiata. A litigare, esatto. Quindi un bravo presentatore, una brava presentatrice deve saper coordinare. Non appropriata. Infatti, infatti, già che dice appunto Rai Storia mi diceva che ho sentito, ok. No, no, per dire, giustamente. Ma la Rai da un po' più... No, no, però per dire, esatto, anche qui quando si pensa al format, scegliere, se chiamiamola clerici abbiamo fatto sagne e fagioli, no? Benissimo. Però, ecco, ad esempio io mi ritrovo molto in questo secondo esempio, cioè nel senso di avere la capacità, e questo è qualcosa che bisogna anche saperla sviluppare, bisogna averla in sé, indubbiamente come ci siamo detti in tutte le professioni, dal fotografo all'attore, una base ci deve essere, però bisogna anche saperla sviluppare, ovviamente facendo tanta gavetta, nell'ascoltare. A me deve comunicare, deve sapere... No, è l'esatto contrario. Perché se non ascolti hai bisogno di interrompere, perché arriva un momento che, soprattutto nei programmi televisivi, dove anche se è in diretta, ecco, molte volte tu hai lì il timer che va avanti, quindi sai che devi fare una scaletta, oggi ci stiamo facendo una bella ghiacchierata molto amichevole, quindi non c'è stress, però se tu hai il timer lì che ti va avanti e sai che comunque tutta la scaletta deve essere affrontata e un ospite, un personaggio, potrebbe prendere delle pieghe, no? Perché poi quando si ha il proprio momento per dire le cose su un canale e subito ci si prende lo spazio. In realtà il conduttore deve saper gestire questi spazi, saper riprendere la parola, dover ascoltare, ecco perché dicevo, è importante l'ascolto, perché in quel modo si può intervenire, interrompere anche con un pizzico di intelligenza, quindi riafferrare una parola che si sta dicendo in quella frase per poter dare spazio a chi è un po' più debole, diciamo, a livello di comunicazione, no? Quindi magari l'ospite che potrebbe dire qualcosa ma magari non ha questo carattere feroce come un ospite agguerrito, quindi bisogna inquadrare tutti i personaggi, avere bene in mente, oltre alla famosa scaletta che è comunque una traccia, ma bisogna ovviamente far propria, ovviamente, riprendere parola e in molti casi, ad esempio format dove, ecco Mediaset si diceva per dire la cacciara, e lì anzi si interrompe, si fa più stress si crea nel pubblico, più caos, più si crea questo spettegolezzo, no? Perché alla fine è anche uno stile spettegolare che fa audience, no? Invece, a mio giudizio, nel corso che appunto terrò, andrò invece, sono un po' più per la scuola, diciamo così, dove tutto deve fluire, deve avere dei suoi momenti di picco in alto, deve avere dei suoi momenti un po' più di stabilità, però bisogna saperlo fare con attenzione, con intelligenza e ascolto, perché nell'ascolto, e qui mi aggancio nelle esperienze invece, non tanto di programmi televisivi quanto di eventi live, nel nostro piccolo anche questo è un momento live, però dove ci sono, ad esempio, non so, concerti, spettacoli, eccetera, 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 bisogna anche stare ovviamente nei tempi, ma bisogna anche vedere il pubblico che hai davanti, quindi la prima grossa differenzazione tra un presentatore televisivo e un presentatore in contesto di eventi è proprio questo, non è detto che chi sa fare l'uno possa saper fare bene anche l'altro, è indubbio che in un discorso live io devo osservare le vostre espressioni, io devo ricevere un feedback da voi per rimodularmi, altrimenti vado come un treno e buonanotte, di questa cosa io non vi ho trasmesso niente, quindi questa è grossomodo la grande differenza, e quindi tornando al discorso del titolo, mi è piaciuto inserire coordinazione, proprio perché è questo, è un po' il direttore che prende i burattini, il burattinaio che deve muovere, par brutto come esempio, però in realtà è così, devi gestire, avere dei tempi, devi toccare determinati argomenti, a volte devi anche un po' scavare, ecco perché l'ascolto è importante, perché se si deve fare un discorso molto semplicistico, basta prepararsi una scaletta, quattro domande e finisce la storia, in realtà con l'ascolto e col dialogo possono venire fuori altre argomentazioni, e avere in quel caso però sempre le redini del gioco, quindi se si apre un fuori programma, un fuori scaletta, perché si ritiene interessante al fine della puntata, lo si può fare, però poi bisogna anche avere la padronanza di riprendere parola, e riprendere parola, nel corso poi viene spiegato, non dipende soltanto dalla voce, questa è un'altra cosa importante, la voce gioca ovviamente un ruolo importante, è in dubbio, ma anche il movimento del corpo, è anche importante gestire gli spazi che si hanno a disposizione, per poter far capire all'ospite o all'intervistato, o a chiunque sia all'interno del programma, che deve iniziare a chiudere, oppure che deve iniziare a tagliare, oppure che quello che sta dicendo lo può anche estendere, quindi a volte scatta anche una relazione, anche semplicemente con la gestualità, anche semplicemente con il movimento del proprio corpo, che è la programmazione neurolinguistica, così come io posso comprendere, se ho fatto una domanda, e questa persona magari non me lo fa capire, ma lo si può intuire, quella domanda lo infastidisce, e quindi anche lì essere molto attenti, quindi osservare e ascoltare. Io ovviamente non ho preparato slide, perché ho detto che non siamo qui. Allora, si sta pensando anche di trovare un modo per farlo online, anche se a me non piace ingabbiarlo, perché in realtà è talmente bello nel confrontarsi, quindi non è stato ancora pensato per l'online, però adesso inizieremo ad ottobre a fare promozione pubblicitaria anche per questo, e sicuramente lo faremo nella nostra sede che sta a Pescara. Ed è bello, in questo caso, l'idea è nata proprio in questo, cioè il volerlo creare, proprio da noi che siamo agenzie e produzione, per mettere un po' come l'attore Domenico, per creare insieme delle cose, perché in realtà, anche io sono abbastanza autodidatta, come nel caso di Domenico, cioè si deve migliorare sempre, io ho ancora 3 miliardi di difetti da perfezionare, però in realtà, se si ha un buono spirito di osservazione, e si fanno anni di gavetta, nel mio caso io ho iniziato grosso modo nel 2004, quindi siamo a 2017, sono a 13 anni, se per 13 anni fai questo tipo di lavoro, inizia ad acquisire sicurezza, padronanza, spirito di improvvisazione, che è un'altra cosa fondamentale, ti puoi preparare quante scalette vuoi, revisionarle fino a 3 secondi prima che sali, stai sicura che non serve a niente, quindi indubbiamente, ci sono stati anche degli eventi, dove è successo proprio così, dal palco cenno fuori, quindi anche il non far vedere, che mi stanno comunicando 3 mila modifiche, e da lì intuire che cosa bisogna cambiare, quindi prendere anche del tempo, prendere parola e trovare un modo per argomentare quei 5-10 minuti che servono, senza far accorgere nulla, e così via, quindi molte volte bisogna anche avere questo spirito di improvvisazione, nel poter gestire delle situazioni, chiamiamole di crisi, dove, per fare un esempio, raccontare qualche aneddoto, anche mi successe una sfilata di moda, un concorso più che una sfilata di moda, un concorso di bellezza, dove fondamentalmente si doveva decretare i vincitoli, le vincitrici, la classifica, e in realtà l'organizzazione non aveva ancora neanche raccolto le schede per fare la somma dei voti, quindi che significa? Che 30 ragazze con, mi ricordo, se erano 6 o 7 giurati, con 5 parametri di valutazione, e si fa subito a dire ok, 30 per 7 giurati, con ogni ragazza ha 4 o 5 parametri di valutazione, cioè, qua dobbiamo prenderci mezz'ora di tempo, non è che tu lo fai in 5 minuti, in realtà poi la serata è ben riuscita, con un attimo di spirito di iniziativa insieme a un altro conduttore, abbiamo, ci abbiamo scherzato su su questa cosa, cioè, non facendola notare, ci siamo un po' improvvisati nel fare il conteggio lì, e ovviamente c'è stata una bella sinergia con chi era accanto a me, perché anche lì è importante, no, che ci sia una, un'intesa, soprattutto con chi è sul palco, con te, e siamo riusciti a creare un qualcosa che sembrava fatta quasi apposta, come una novità, ovviamente è una situazione di stress allucinante che devi coprire senza mostrare nulla, quindi è importante avere anche uno spirito di improvvisazione, e la personalità, tornando al discorso del titolo, quindi coordinazione, personalità, a mio giudizio è la cosa principale, la cosa principale perché il conduttore non deve essere solo un megafono, speaker alla fine è quello, il termine ci induce a dire una sorta di megafono, no, il presentatore è una figura che comunica a sua volta, quindi se sentite parlare me con un tono di voce, ecco vedete il pc che cosa fa, fra cinque minuti si autodistruggerà, allora, no, vedi, ok, facciamo ok, vediamo che succede, dicevamo, quindi, ho perso il filo con questa cosa, mi sono distratta, personalità, è importante perché, perché se io ho un tono di voce, ho un modo di parlare, ho un modo di esprimermi, un modo di guardare, vi sto trasmettendo qualcosa, positiva o negativa che sia, e così tutte le altre figure, ecco perché sempre nei corsi che andiamo a realizzare, anche in questa figura, così come magari nel digital painting, esprimere la propria dote artistica, anche nella figura del conduttore, è importante capire chi sia davanti, ecco perché faccio ancora un po' fatica a pensarlo online, rispondendo alla sua domanda, perché bisogna capire chi sia davanti, e da lì tirare fuori quello che è il suo pregio in questo caso, quindi, è inutile che io mi metta a fare, ad esempio, a condurre un programma, magari io mi vedo in determinate figure, non mi vedo in altre, magari un programma serale, dove, non so, di disco music, ok, no, non mi ci vedo, sarei male, comunicherei male agli appassionati di questa cosa, e via dicendo. Per cui, questo è un po' il tutto, è in dubbio anche che il conduttore, il presentatore, può giocare le sue competenze, o quello che sia, anche su diversi mezzi di comunicazione, quindi abbiamo parlato della tv brevemente, ma in realtà chi fa utilizzo della propria voce, lo può fare anche attraverso il mezzo radiofonico, che, salve, e attraverso il mezzo radiofonico, quindi speaker radiofonici, il mezzo, appunto, televisivo, dicevamo, il mezzo web, che ormai, assolutamente sì, infatti, ogni mezzo è diverso, il live è una cosa, la tv un'altra, la radio un'altra, ancora, il web ancora, perché ormai è un mezzo a tutti gli effetti, è più difficile, se avete un altro po' di curiosità, io continuo, eh, sì, sì, dal figlio, sì, assolutamente, sì, 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 allora, mi aggancio un po' anche a Domenico, ti sei perso l'intervento di Domenico, e tanto rimetteremo tutto online, stiamo registrando questa diretta, è un po' come ha detto anche Domenico, l'attore, ci sono delle strade per arrivare a un successo, nel senso che molte volte dice, perché quella o quello è lì, e magari non ci può essere, non so, lei stasera si va a fare un aperitivo in compagnia di amicizie, c'è un evento, c'è una bravissima conduttrice, uno può essere per scelta, nel senso che magari c'è chi non ha, ma per forza ha tutti gli effetti ostentare il successo, un esempio è qua, io lo faccio per me, mi piace, mi dà soddisfazione, l'ho sfogato con l'agenzia di comunicazione, mi piace non fermarmi su una sola cosa, per cui non ho mai sentito la necessità, anche se, come dire, ho provato delle strade comunque a farlo. Due, ahimè, non nascondo, perché quelle esperienze che ho avuto direttamente, la selezione purtroppo non avviene solo per capacità, detta in maniera, ecco, Rostana col piedino che fa, per usare un gergo magari anche un po' abruzzese, la zampata, come si dice, e quindi sì, molte volte la selezione delle persone avviene anche per conoscenza, per una serie di motivi, diciamo, che possono essere legati anche a una bravura, per l'amor di Dio, però non a una bravura assoluta, ecco, ma io credo che sia anche un po' in tutti i mestieri fondamentalmente, se vogliamo, se ci ragioniamo un attimino, no? La selezione, cioè c'è sempre una persona che seleziona e quindi c'è sempre un giudizio, una considerazione comunque non oggettiva della cosa, voglia strada facile o non facile, quindi molte volte si, altre volte si fanno per scelte di marketing, nel senso che magari la bella donna che magari racchia, però, cioè la voce stridula, però intanto è bella e sappiamo che 5 milioni di telespettatori non stanno lì a dire che bel tono di voce che ha, ma sta a dire ma che bel fisico per non dire altro e quindi giustamente si va avanti un po' così, poi la televisione italiana ahimè bada molto a questo anziché magari badare un po' più al contenuto e alla forma. Abbiamo anche Giacomo, grazie, è un altro relatore. Per cui visto che è arrivato anche lui effettivamente io quasi quasi vado al termine così insomma do parola anche a Giacomo prego accomodatevi è ingresso libero approfitto che vedo arrivare delle persone. Quindi fondamentalmente sì per fare una sintesi estrema appunto le competenze e le sfumature per appunto diventare conduttori tv o per qualsiasi altro mezzo sono tanti. Lei ha anche così mi aggancio anche al prossimo intervento anche citato il discorso radiofonico quanto è difficile. Allora le difficoltà in realtà stanno tutte nel come ci si sente nel gestirle perché basti pensare la cosa più facile che viene in mente è che in un discorso televisivo bisogna considerare l'aspetto vocale bisogna considerare i tempi che sono indubbiamente diversi dai tempi radiofonici bisogna gestire delle persone quindi c'è anche un mettere in mostra come dicevamo prima anche la gestualità e il movimento del corpo in un discorso radiofonico buona parte di questo non c'è ma c'è molto altro ovviamente il tono di voce nel mio caso che ha ancora diciamo dei difetti se vogliamo abbastanza pronunciati e lui mi correggerà possono come dire essere un po' trascurati per voi perché io mi muovo intervento esatto con un'altra persona prende parola all'altra persona insomma in questo movimento visivo l'aspetto auditivo c'è ma non è così concentrato in un discorso di speaker radiofonico ovviamente l'unico canale che vi arriva è l'audio quindi il rispiro che ho fatto così in radio sarebbe diventato lo tsunami in un discorso di conduzione può passare avanti quindi sì le sfumature sono tante e soprattutto la comunicazione attraverso la voce appunto trasmette delle sensazioni dei concetti che ovviamente ripeto sono come unico canale quindi se io le devo far riflettere la devo far riflettere su un discorso piuttosto che come prima una signora che si era commossa nel vedere uno spot quindi farla commuovere in qualche modo su un tema è indubbio che la variazione vocale il timbro i ritmi eccetera giocano un ruolo estremamente fondamentale quello è indubbio se ci sono altre domande io sono qua vi posso come dire rispondere c'è qualcuno che ha mai pensato di prendere il microfono e parlare davanti a un pubblico tutti terrorizzati sì? fantastico lo faceva con gioia nel momento in cui si prova in primis un'emozione poi ecco ripeto in un discorso di conduzione dove ci sono tanti altri fattori a prescindere dalla voce sicuramente entrano in gioco e quindi se lei sentiva sentiva questa sensazione questa emozione riusciva a trasmetterla e quindi sicuramente fantastico benissimo grazie allora e insomma anche qui penso che inizieremo insomma breve per cui motionschool.com come sempre ci sono tutte le novità musica Grazie a tutti.